Benvenuti amici di Delta Radio a giro gustando un viaggio tra i sapori del nostro territorio alla scoperta delle eccellenze dei prodotti e dei produttori con le storie più curiose e affascinanti da raccontarci per sapere cosa stiamo mangiando e soprattutto perché questi prodotti sono così buoni. Oggi è una puntata dedicata al mondo dei formaggi infatti sono qui con Claudio Nardini che è proprio un produttore di formaggi polesano di Cavanella Po e anche pastore allevatore perché le stesse pecore e capre che poi il cui latte usa per produrre il formaggio sono le sue le porta a pascolare lungo gli argini quindi è un antico mestiere quello che scopriremo oggi con prodotti tipici eccellenti perché sono di assoluta qualità ma io direi intanto salutiamo Claudio grazie per essere qui con noi grazie a voi ecco fra poco ci racconterà tutta la storia della sua azienda ma anche del suo lavoro perché come vi dicevo poco fa appunto è molto particolare anche i formaggi cambiano molto a livello di sapori di profumi di quello che sanno comunicare al palato in base a come vengono fatti e anche come cresce l'animale perché da quello che mangia l'animale ovviamente cambia quello che poi andiamo a mangiare noi comunque tutto questo ve lo spiegheremo tra pochissimo restate sintonizzati qui su delta radio eccoci qua ritornati a giro gustando questo viaggio tra i sapori un tour guidato per le strade del gusto del nostro territorio per scoprire tutte le eccellenze i prodotti tipici da gustare e degustare come vi ho anticipato poco fa oggi parleremo di formaggi perché siamo con Claudio Nardini che è un produttore di formaggi di formaggi di formaggi di formaggi di sintonizzati di estabanella po quindi polesano formaggi di pecora e di capra quindi particolari con sapori particolari e la cosa bella è che proprio allevatore quindi non prende il latte da altri sono suoi gli animali che porta a pascolare nelle golè negli argini del po quindi se è tutto un prodotto a chilometri zero ciao Claudio buongiorno, sì esattamente hai detto tutto giusto diciamo io abito a Cavanella Po l'azienda Cavanella Po noi siamo penso uno dei pochissimi allevatori, pastori rimasti, soprattutto nel Delta una volta c'erano molti di più adesso è un lavoro che va a scomparire stanno un po' scomparendo per una serie di problematiche che non stiamo qua a elencare per cui niente, io cerco di concludere dall'allevamento dell'animale fino è brutto dirlo, fino alla fine perché ho concluso il mio percorso, non solo quel caso quindi fai anche carne, non fai solo formaggi certamente, ho aperto il passatoio e quindi chiudiamo il cerchio insomma, so che magari è brutto dirlo però l'importante è che l'animale viva bene finché vive, lo porti al pascolo vive libero come funziona? Visto che proprio da là alla Z tutto il ciclo passa attraverso le tue mani puoi raccontarcelo dall'inizio certo non è nulla di che credo che siano dei più mestieri più antichi che esistano forse, probabilmente quindi non c'è nulla di che l'animale viene se ne sono altri di antichi mestieri ma sono di altra tipologia non è l'anogo astronomica certo, ovviamente è simpatica va bene no, torniamo a noi certamente come dicevi gli animali vengono allevati da noi fin dalla nascita vengono cresciuti dopodiché ovviamente le femmine vengono indirizzate per l'allevamento quindi la produzione di agnelli quindi la produzione di latte e via discorrendo i maschi una volta cresciuti hanno l'estensione carne ecco, tu quante pecore e quante capre hai? allora indicativamente varia molto dal momento adesso siamo sui 6-700 animali ovini quindi pecore e circa 300 di capre poi varia molto dal periodo varia molto da un sacco di cose però indicativamente siamo su migliaia di capi totali dopo varia un po' al momento ecco e come funziona? tu ogni giorno ti svegli per portarle al pascolo? diciamo che io intanto sono sfortunato i tuoi collaboratori ho dei bravissimi collaboratori quindi sono tutti tutti i ragazzi che lavorano con me la gran parte da diversi anni perché io cerco di creare una squadra più affettata possibile non faccio mai pesare di essere datore di lavoro e se c'è da fare un sacrificio sono io il primo a farlo soprattutto per dare un buon esempio e niente al mattino le pecore vanno vanno munte che è la prima cosa che viene fatta diciamo che in un paio di ore la mungitura viene fatta a che ora? a che ora? perché so che anche l'orario è importante allora diciamo che i tempi fortunatamente sono un po' cambiati ai tempi dei miei genitori diciamo così io ho 55 anni quindi parlo di 30-40 anni fa che si alzava molto prima che io ho sempre considerato una cosa abbastanza inutile però il mondo girava così un po' come il nostro mondo agricolo diciamo in realtà detto questo adesso noi diciamo che la sveglia suona verso le 6-6 un quarto poi dipende all'estate un po' prima alle 6 all'inverno anche alle 6 quindi diciamo che non siamo quelli che alle 4 sono negli animali quindi in due ore si effettua la mungitura dopodiché il latte viene indirizzato a casa quindi per la lavorazione che di solito viene fatto ogni due giorni quindi viene conservato nelle celle nel sistema del latte insomma apposite e gli animali vengono rilasciati al pascolo quindi vanno vanno al pascolo o pascolano circa 3-4 ore al mattino dopodiché si riposano tra virgolette soprattutto nella stagione estiva che fa caldo e dopo alla sera vengono fanno ancora 3-4 ore di pascolo e verso le 7 e mezza 8 alla sera viene effettuata un'altra mungitura quindi due volte ecco e invece oltre agli animali il latte quindi è detto viene conservato nelle celle viene lavorato ogni due giorni cosa fate che prodotti fate noi facciamo principalmente formaggi semistagionati dopodiché ultimamente i gusti sono cambiati e quindi facciamo anche molti prodotti freschi vale a dire yogurt formaggi tipo primo sale perché vanno molto i gusti delle persone sono cambiati e bisogna rincorrere i gusti delle persone e anche ricotte anche se non è considerato formaggio infatti è un sottoprodotto ciò che viene la ricotta è un sottoprodotto che viene fatto dopo che viene fatto il formaggio portando a ebollizione il siero che il siero è liquido che rimane dopo che viene fatto il formaggio diciamo e poi per affioramento se vuoi dopo te lo spiego è la ricotta che è quella che va per la maggiore diciamo che è anche quella più salutare più proteica diciamo dopo dipende dal gru sì 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 in genere sì soprattutto quella un po' più digeribile soprattutto se è di capra perché è molto magra quella di pecore è un pochettino più grassa perché il latte comunque il latte di pecora è abbastanza grasso certo ma adesso adesso profondiamo profondiamo tutti i prodotti che sono curiosi anche per sapere tutti i sapori e le curiosità di ogni prodotto anche come abbinarlo perché dobbiamo dare consigli concreti ai nostri ascoltatori quindi restate in collegamento qui con noi su Delta Radio ritorniamo tra pochissimo con Giro Gustando bentornati amici di Delta Radio a Giro Gustando questo tour tra i sapori del nostro territorio che oggi tratta proprio di formaggi di formaggi polesani perché stiamo parlando con Claudio Nardini di Cavanella Po e ci stava un po' spiegando quanti e quali formaggi produce nella sua azienda quindi partiamo da le ricotte che mi diceva prima appunto non sono un formaggio per poi proseguire con i formaggi freschi e quelli stagionati quindi Claudio raccontaceli un po' anche i sentori i sapori che possiamo sentire dentro questo formaggio e come tu ben spieghi cambiano anche in base al periodo dell'anno perché cambia tutto in base a quello che mangia l'animale ovviamente sì i miei prodotti sono formaggi prodotti a latte crudo non pastorizzato quindi risentono molto moltissimo proprio di ciò che mangia l'animale quindi all'inverno sono un po' più grassi del periodo estivo perché ovviamente al periodo estivo l'erba l'alimentazione è più fresca lungo le golene del po' quindi diciamo c'è più e all'inverno mangiano spesso noi integriamo con foraggi sempre prodotti da noi ovviamente anche perché se c'è brutto tempo poverine ma no diciamo che la pecora è un animale che va sempre fuori è un animale molto rustico addirittura la pecora produce molto di più se sta all'aperto esistono molto pochi di allevamenti intensivi perché comunque la produzione dell'animale scende se è in capannone diciamo così quindi questa è una bella fortuna per la pecora così almeno si fa una bella vita non soffre le temperature diciamo soprattutto non soffre le temperature molto rigide soffre un po' di più il caldo ma questa è una situazione normale ma il freddo non ha nessun tipo di problema anche perché ha la lana quindi se non ha caldo una pecora esatto quindi ecco quindi risente come dicevo prima risente molto dell'alimentazione quindi se vogliamo proprio andare nella finezza nella questione di lana caprina appunto restando nel tema diciamo che teoricamente nel periodo primaverile è il periodo dove il latte è meno denso quindi se uno va alla ricerca dei sapori diciamo che ne trova un pelino meno ecco invece nel periodo autunno invernale soprattutto autunnale adesso dove vanno dove dove tolgono il mais cose un po' di sostanza diciamo che il latte è più ricco quindi infatti dal punto di vista della produzione rende anche di più diciamo che un 2-3-4% in più rende rispetto all'estate all'estate come ti dicevo l'erba è fresca quindi molto piena di liquidi quindi di erba quindi anche il latte ne risente e questo lo senti se lavori il prodotto a latte crudo vuol dire latte intero sì quindi il formaggio è più ricco di sapori diciamo in autunno quindi questo è facciamo anche un gioco per i nostri ascoltatori da casa qualche consiglio proprio gastronomico cioè a cosa abbinare il formaggio allora qui mi trovi un po' spiazzato ok perché ora ti faccio ridere ma tieni presente che io non so neanche farmi un panino quindi non è che sono una persona però però comunque andando a intuito essendo più saporito quello stagionato esattamente diciamo così i formaggi stagionati vanno molto bene di solito i miei prodotti li vanno molto quelli stagionati parlo molto li gratugiano diciamo no le pasta asciutte cose del genere per i miei prodotti freschi al di là del fatto che vanno consumati principalmente d'estate diciamo ti parlo dei primi sali perché vanno quei prodotti così freddi e il resto i formaggi a media impasta diciamo vanno consumati dopo il pasto più o meno ecco oppure chi si fa il panino ecco diciamo una cosa così quindi un formaggio un po' più saporito che si sente ed è buonissimo perché il formaggio di pecora o di capra è buonissimo è saporito quello che posso dire io diciamo che però negli ultimi anni paradossalmente i gusti forti cioè i formaggi stagionati hanno risentito delle vendite ma questo dipende proprio dai gusti delle persone che cambiano cambiano e che si abituano come dico io ai gusti diciamo così un po' meno forti e quindi quando ti arriva un formaggio forte che sa da pecora diciamo e ci sono dei clienti che ti dicono accidenti come sa da pecora no preferisco l'altro quello più morbido perché si sente meno ma questo dipende dal fatto che non le persone non sono più abituate ai gusti forti ah certo perché con l'industrializzazione dei gusti c'è stata una standardizzazione mentre invece se vai in zone tipo dove i gusti ci sono ancora non per dire ma zone montagne diciamo così e vanno ancora i formaggi forti e piace di un anno un anno e mezzo proprio piccantissimo cosa che qui da noi non c'è più almeno di qualche caso sporadico o di qualche piatto particolare che fa qualche ristorante ma diciamo che non fa testo io che devo vendere i prodotti e devo vendere ciò che il cliente mi chiede ecco a proposito di vendita di prodotti tra poco Claudio ti chiederò proprio dove possiamo trovarli i tuoi prodotti però io direi adesso di dare spazio un po' alla musica di delta radio quindi ci risentiamo tra qualche minuto qui a giro gustando certamente grazie bentornati a giro gustando abbiamo scoperto oggi che quando percorriamo le strade per andare al mare verso porto levante nelle valli del posse vediamo delle pecore 99% sono quelle di Claudio Nardini che stanno pascolando e si stanno nutriendo per poi produrre del formaggio buonissimo che ci ha raccontato le varie tipologie ma Claudio dove lo possiamo trovare allora noi abbiamo uno spazio aziendale nella sede dell'azienda quindi a Cavanella Po chi si può venire a trovare certamente uno spazio aziendale aperto sempre comunque con una signora un po' chiacchierona che è mia madre che è sempre lei diciamo così poi vabbè a volte anche le ragazze poi dopo siamo presenti principalmente in tre mercati uno a Rovigo il lunedì pomeriggio in commenda col diretti col diretti campagna amica dove sono associato e dove dove ha fatto molto abbiamo aperto ha fatto molto insomma ci segue in tutto e per tutto nella persona della Lisa Capellari che qui saluto e ringrazio ci salutiamo che quando c'è un problema di qualsiasi sorta o comunale o sanitario e chiamiamola Lisa Lisa ce lo risolve sempre quindi quindi qui la ringrazio pubblicamente tutta la situazione chiaramente dopodiché siamo presenti al venerdì al Lido di Venezia un mercato bellissimo grandissimo quindi potrebbe anche essere un'idea venire al Lido per poi certo un mercato grandissimo aperto a tutti stranieri cioè di tutto e dopodiché il sabato marina sottomarina dove noi siamo nati tra virgolette con la vendita diretta perché circa 15 anni fa montai a sottomarina l'unico paese che mi diede la concessione di montare dei distributori automatici di latte di latte li abbiamo associati io vendevo formaggi formaggi ricotta confezionati poi dopo abbiamo unito quelli del latte e lì abbiamo fatto questi isoletti e quindi il Comune Sottomarina ci diede l'ok che era una cosa che non esisteva e da lì abbiamo iniziato a vendere diretta perché io per far pubblicità davanti al mio distributore facevo assaggiare formaggi alle persone con un banchetto e da lì c'è venuta l'idea di farle vendita diretta e quindi lì è nato tutto insomma poi Campagna Amica ci ha come ti dicevo ci ha secondato ci ha aiutato e da lì ci è aperto tutto quindi solo vendita diretta Claudio o nel tuo spazio o nei mercati col diretto di Campagna Amica dopo qualche ristorante della zona che ovviamente noi forniamo qua nella zona Portoviro il mare diciamo così ecco noi non andiamo fuori insomma rimaniamo qua anche perché abbiamo una produzione limitata insomma non abbiamo numeri industriali quindi ne abbiamo più che sufficiente del nostro territorio quindi cari amici di Delta Radio se volete assaggiare i formaggi Nardini andatelo a trovare a Cavanella Po certamente grazie bene Claudio ti ringrazio sei stato gentilissimo e ti auguro ovviamente un buon lavoro una buona produzione di formaggio e ci risentiamo presto e un saluto anche a tutti gli ascoltatori di Delta Radio grazie per essere stati con noi qui a Giro Gustando bene grazie vi saluto grazie ancora grazie grazie a tutti